Sabato 26 settembre, finalmente, nonostante ci sia il sole, si può stare in giacca e cravatta, non fa più decisamente caldo, le temperature si aggirano intorno ai 23-24 gradi. Adesso facciamo un piccolo esperimento. Io sto lavorando oggi pomeriggio al centro Epson Meteo e volevo sapere un po' dalle persone che collaborano con me tutti i giorni se sanno effettivamente quale sia il tempo. Stavo cercando di scappare perché non sono in grado di rispondere alle mie domande, però insomma, Andrea, eccolo qui, Andrea Faccoli, allora tu per caso sai domani che tempo farà nonostante da stamattina tu stia lavorando e stia guardando mille grafiche? Assolutamente no, perché io lavoro e non guardo il meteo. Benissimo, vediamo un po' se, e questa è già la prima prova che volevo, andiamo invece da Enzo, Enzo Crisci, tu invece sei un po' più attento rispetto a tutti gli altri tuoi colleghi, che tempo fa domani? Domani bello fino a mettersi... Ma no Enzo, domani è nuvoloso! Nel pomeriggio! Insomma, niente, chiudiamo qua questa intervista perché veramente mi sa che proprio il lavoro del meteorologo sarebbe meglio abolirlo.